La 3 marzo, prima uscita, entra Giacometti. Com'è andata? Due morti. Due morti. Feriti, devono arrivare. No comment. No comment. Giacometti ieri com'era? L'abbiamo visto, diciamo, pimpante a spingere nella bassa. E quest'anno chiudo la marcia lunga. Bene, buoni propositi per l'inizio. Non te la fa. Vogliamo dire qualcosa al nostro amico Lucone? Anche quest'anno fai le foglie a Giacometti. A Gattarini no, ma a Giacometti. Invece per Paolo Penner e Alessandro Segalla? Alessandro Segalla ve la fa il ski man. Come sempre. Paolo Penner se non abbandona la via dell'alcol forse. Giorgio Daldos? Giorgio Daldos è assoluta incognita. C'è il fattore di agitazione che potrà influire sulla salita. La giovane età, l'influenza, la supera la gara. Bene, bene. Quindi, Giorgione, prossimamente, dove ti vedremo impegnato? Sempre su tre marcia perché... E raccolta di fieno? No, finita. Basta. Salutiamo casa? No, no, anche salutiamo solo Lucone, l'uomo della cooperativa. Speriamo che la si sta ritenendo le costatine. Saluti.